Ma che è successo? Otre siamo? Steve, è troppo contenuto Si formano delle porte spazio-temporali L'universo non è pronto Stavamo provando il nuovo webinar Lunedì 24 maggio 2021 Ore 21 Play Lover Dating Il nuovo webinar gratuito Per imparare come crearti situazioni partendo da zero Sarà un evento... Spaziale Amico, siamo qua, siamo tornati Siamo sempre con Alessia Ciao ragazzi Io non mi presento perché sai chi sono E oggi parliamo di come mantenere viva la curiosità Dopo le prime conversazioni Adesso ti spiego la situazione Sono tutta orecchia Allora, dopo aver risolto la grande domanda Cosa le dico? Ok, questo è il grande enigma Quindi come iniziare Esatto Anche se non te lo dice pure Lorenzo ha questo problema Perché Lorenzo è già bravo Ma Lorenzo ha lo stesso problema Cosa le dico? Poi c'è la seconda domanda che è come proseguo Ok, grande domanda Ci abbiamo fatto un videocorso Vattelo a vedere Dall'ombrico Baby Play Lover Che risolve questi quesiti qua E poi cos'è la situazione? Com'è la situazione? Praticamente gli studenti dicono Ok, bene, io parlo di X, di Y, di Z E poi come mantengo viva la curiosità Dopo le prime conversazioni? Quando ci siamo detti Chi sei? Cosa fai? Da dove vieni? Due, tre hobby, passioni? Come mantengo viva la curiosità? Partiamo da un presupposto Sono dell'idea che non deve porsi questa domanda Solo in lui in questione Deve essere anche lei Se c'è interesse a mantenerla viva Altrimenti già partiamo male Perché se è solo lui che deve trascinare la conversazione Per poterla mantenere C'è qualcosa che non va di base Ok, perché se sono io a doverti dare input E tu a me non ne dai O molli il colpo O ti inventi una presa di testa Per vedere se riesci a squatterla un attimino Altrimenti stop Io ho un suggerimento Ed è quello di andare a spacchettare Anche le singole situazioni quotidiane Ok, per, come dire, nutrire il dialogo E far capire qualcosa di sé all'altra persona Sicuramente ci devono essere Ci devono essere delle idee innovative Non è che ti posso chiedere Vabbè, oggi che hai fatto Magari vado un pelo più nel dettaglio Senza essere troppo irriverente Non so se mi segui Io ti faccio un esempio Io odio andare alle poste Ok, perché sono l'esempio Dell'inefficienza più totale E tu lo diresti questo? Per dirti Guarda, oggi sono stato alle poste E niente, ogni volta che vado qua dentro È un dramma Allora, ci sta perché tu parli di una cosa Che hai fatto durante la giornata Quindi è carino E automaticamente se lei vuole Potrebbe dirti anche lei Che cosa ha fatto durante la giornata E quindi iniziare una conversazione Per di più gli stai anche dicendo Una cosa che tu non tolleri Esatto E lei potrebbe dirti Guarda, effettivamente sono d'accordo con te Piuttosto che io adoro andare alle poste E ci andrei tutti i giorni Esatto Ma l'obiettivo Cioè l'obiettivo della conversazione Non è dirti che io sono andato alle poste Ma è da questa situazione Farti capire No, e soprattutto la cosa importante Non stai facendo una domanda Cioè tu ti limiti a fare un'affermazione Che ha un ventaglio di risposte Quindi è un'affermazione intelligente In cui io non ti sto domandando E quindi risulto io Quello che ti chiede continuamente qualcosa Ti sto dicendo qualcosa di me Ti sto dando modo a te Di dirmi tu come la pensi Inerente ovviamente Adesso è l'argomento delle poste Possono esserci altri mille Quindi in realtà è una cosa Molto intelligente da fare Perché poni la ragazza In modo tale che Io ti posso dire Che la posta mi fa schifo Che la posta mi piace Ti posso dire Sai io invece oggi Sono andata a fare la spesa All'esse lunga Perché mi piace da morire Chiaro chiaro Però da questo concetto Si possono poi Tirare fuori una marea di concetti Perché Ho aspettato un sacco di tempo A me dà fastidio aspettare Perché? Perché do valore al tempo Quindi in qualche modo Fai capire che non sei uno Che non ama perdere il tempo Sì è una cosa Molto sottile Che non penso che tutti Però colgano No ma devi andare poi Ad esplodere i concetti Non è che puoi dire Ah ok no Pensavo che tu dicessi questa frase Con l'intento di Voglio far arrivare questo No Lo devi spiegare Argomentare Però l'esempio è Io parto da questo Episodio quotidiano Banale Ok Che non ha nulla di Emotivo comunque Conoscitivo Assolutamente È neutro E da questo però ci tiro fuori Delle situazioni Delle sfaccettature di me E le vado a raccontare In base alla reazione Che ho io Rispetto a questa situazione Guarda questo episodio È molto interessante Questa cosa Sì Anni di esperienza Anni di esperienza E poi dite che il corso Non va a 2000 euro No lo mettiamo a 6000 euro E su youtube community Postiamo che è contabile Ed è bonifico E insultate Benissimo Dopo questo Anche a me comunque È capitato Di fare così Per voler mantenere Una conversazione Perché ti ripeto Non deve sempre essere lui A farlo Sono dell'idea Che debba essere Anche la ragazza A farlo ogni tanto Anzi senza ogni tanto Non è semplice che per una ragazza Arrivi a questo tipo di comunicazione Sai perché Perché è abituata sempre A essere cercata Sì a cercare Questo qua Lo scopri quando tu sei Tra virgolette In difficoltà Ossia Tu competi con 100 uomini E devi in qualche modo Arrivare ad avere l'attenzione Tu non puoi comportarti Scriverti Comunicare con gli altri uomini Tu devi essere davanti Assolutamente sì Altrimenti rimani nell'ombra Come tutti gli altri Quindi a meno che Non sei L'uomo più bello d'Italia Ma sei un ragazzo Normalissimo Devi puntare su altro Mi trovi d'accordo Detto ciò Anche a me è successo Quindi Quando volevo magari Mantenere vivo l'interesse Anche io Me ne uscivo Con frasi Del genere Per poi Arrivare ad altro Questa è una cosa psicologica Non indifferente da fare Che secondo me Molto spesso funziona Adesso Tu mi farei degli esempi Del tipo Cos'hai detto Non me lo ricordo Perché ho la memoria Ho già fatto io un esempio Ok Ho una memoria pessima Assolutamente Però Mi trovi d'accordo È una cosa molto intelligente E In questo modo Capisci anche l'altra persona Quanta voglia Poi di interessarsi a te Assolutamente sì E poi ti dico Questo tipo di Tecnica Chiamiamola così Comunicativa La puoi replicare Su tutte le situazioni quotidiane Per dirti Assolutamente sì L'arrivo di un pacco di Amazon La spesa Che esci Io non vado più a fare la spesa Perché Secondo me È un'altra partita di tempo Che devo eliminare Però Uno che esce A fare la spesa Magari la fa anche per svagarsi Esempio Oppure Andare a fare shopping Ecco Andare a correre Andare a correre Andare in bici Andare in passeggiata N cose che tu fai Durante il giorno Le puoi andare a spacchettare Facendo conoscere Parti del tuo carattere Della tua personalità Del tuo modo di pensare Ok Sì E questo Chiaramente devi comunicarlo bene Perché la ragazza Lo deve recepire Non è Che comunichi una situazione E arrivano tutti i concetti In automatico Assolutamente no Anzi Devi spiegarti Sei tu che devi Iniziare a scendere le cose Per forza Non puoi pensare Che hai davanti Una persona che già ti conosce O già sai a che tipo di concetto Vuoi arrivare Tu con pazienza Perché la pazienza Secondo me È fondamentale Per ogni conoscenza Se vuoi arrivare dritto al punto Se vuoi entrare più in profondità E con pazienza Farti conoscere E conoscere Perfetto Allora Questo era il nostro topic Su come mantenere viva La curiosità Di una ragazza Dopo la prima conversazione Se ti è stato di aiuto Questo video Sono contento Se hai bisogno Di qualcosa in più Chiami Il team trainer Ok 8941416 E ti vende una consulenza Un saluto a tutti Ciao Basti Ciao